E' l'anno di Baggio, così si dice. Ma speriamo, anche se sarà molto difficile a cominciare da oggi. Vicini ti chiede di confermarti. Speriamo, ci provo. Ci spera Vicini, ancor più Giorgi, aspettando lunga la Fiorentina e soprattutto lui, Baggio, anche quando l'avversario diretto gli concede pochissimo. Bravo te facendo. E' un giocatore che non devi far mai respirare. Dovevi marcarlo forse anche sulla punizione. Diciamo che era l'unica circostanza dove non lo potevo marcare. Eccola l'invenzione con la quale Baggio ha evitato alla Fiorentina la prima sconfitta del campionato, togliendo al Bari un punto che Salvemini non sa se definire perso o guadagnato, visto che nel primo tempo era stato il Baggio di Bari, Pietro Maierlaro, a scatenare l'entusiasmo di un pubblico tornato in A dopo tre anni. Diciamo che è un punto giusto anche se la partita potevamo chiudere al secondo tempo con la palla a gol di Monelli. In modo una partita molto tirata, nel primo tempo abbiamo aggredito molto la Fiorentina. Siamo colati un po' la distanza perché mantenere quel ritmo là era troppo elevato con una giornata calda come oggi. Ad ogni modo accontentiamoci. Tra i due gol una partita dai due volti, meglio il Bari nel primo tempo e la Fiorentina nella ripresa. C'erano cinque nuovi stranieri da scoprire, non tutti hanno brillato. Bene Gerson e Gio Paolo nel Bari, quest'ultimo in avvio ha rimediato anche un cartellino giallo e troppo severo, ma evidentemente Cornieti aveva fretta di rispettare le nuove consegne. Buono anche l'esordio di Kubik, che qui vediamo impegnare Mannini nella parata più difficile della partita. Un po' meno quello di Dertizia, che su un pallone lavorato egregiamente da Baggio ha fallito un gol che sembrava fatto. Quasi a pareggiare il conto con Monelli, un ex che ha avuto sull'1-0 la palla buona per chiudere la partita. Invece per Landucci è arrivata la grazia. Nel primo tempo però, anche questo va detto, era stato il palo sul tiro di Bosco a salvare Mannini.